A Cosenza si è svolto un incontro tra il direttore dell'azienda ospedaliera, Achille Gentile, e il presidente provinciale dell'IPASVI Fausto Sposato ed è servito per focalizzare l'attenzione sull'attuale fase sanitaria nella provincia di Cosenza. I concorsi per infermieri, il personale di supporto, il ruolo dei coordinatori e dei capisala, il percorso formativo, il tutelaggio e gli studenti e il pronto soccorso del nosocomio cittadino. Questi i punti tracciati e le argomentazioni discusse. Il dottor Gentile ha ascoltato e accolto le nostre preoccupazioni ed i nostri intenti. Gli infermieri sono fondamentali per una buona sanità affinché tutto possa funzionare a dovere, è quanto affermato Sposato in una nota a margine dell'incontro. Il dirigente ci ha assicurato che su tutte le tematiche messe sul tavolo sarà premura dell'azienda ospedaliera cercare di trovare delle soluzioni. L'incontro tra Gentile e Sposato tra l'altro è stato anche occasione di confronto sul pronto soccorso cittadino e sulla reale possibilità di cambiare con urgenza l'iter in essere. Inoltre è stato discusso anche dai coordinatori facenti funzioni che vanno legittimati sulle unità operative dotate di un organico ottimale sull'importante richiesta alla Regione Calabria di una deroga per il concorso da dirigente Citros.